È la prima vera domenica senza nocerina per i tifosi, è la prima vera domenica senza tifosi per la nocerina, perché le due cose sono direttamente proporzionali e sicuramente alla nocerina mancheranno e sono mancati i sostenitori quando questi hanno deciso di disertare lo stadio San Francesco, così come avranno sofferto non essere presenti e adesso non poter più incitare ai propri colori i supporters feriti dall'esclusione della propria squadra del cuore. Cancelli chiusi, spalti deserti, armadietti svuotati, linee non tracciate, lo stadio San Francesco oggi è triste, abbandonato. Niente calcio, nessuna partita, non ci sono bandiere, soltanto un vuoto, il senso di vuoto che pervade ogni amante del vessillo molosso. E non sembrano più esserci chance per un immediato cambio di rotta, non ci sarà il ricorso al NAS, sono stati lasciati liberi i calciatori. Non si può non pensare esclusivamente al futuro prossimo, quello che almeno per un anno sarà tra i dilettanti e con nuova denominazione. In città tra la gente c'è un misto di rassegnazione e rabbia perché la sentenza non ha convinto nessuno tra gli appassionati nocerini pur sottolineando che gli sbagli sono stati commessi uno dietro l'altro, da tutti. Chi più e chi meno, infatti, non c'è nessuno che può permettersi di scagliare la prima pietra.